Mi piace la Meloni, per me è un grandissimo politico, capace, preparato, ok, poi purtroppo sbaglia a circondarsi, anche la roba di San Giuliano, complotti, l'altra volta guardavo piazza pulita di formigli, agli archivi, chissà che cosa ha ripreso, la sicurezza generale, ma porco, stiamo parlando di uno sfigato patentato, di una puttana, che sono stati al centro dell'attenzione e vi hanno preso per il culo tutti, il livello è talmente basso che rappresenta nulla, non c'è nulla, l'informazione vi ha preso per il culo in maniera impressionante, un cretino che non si può neanche definire giucciolone, è una che non è neanche una mignotta, ma che è una che l'ha preso per il culo, che ha preso la scena e che trattano come una donna che potrebbe far capire cadere cosa, ma cosa potrebbe far cadere, ma smettetela di prendere per il culo la gente. Veniamo alla Meloni.